Abbiamo i vegetariani in sala? Avete l'energia di farvi vedere? Sono questi nuovi! Non ce ne sono di vegetariani in sala? Io, ecco! Allora, tu che sei una persona retta, una persona che vuole salvare questo nostro dannatissimo pianeta che mi fa starnutire. Però solo, diciamo, certi mammiferi. Io solo perché a me non piace, mi stanno le palle gli ornitorinchi. Gli ornitorinchi non gli mangi. Gli ornitorinco è un mammifero, gli ornitorinco, sì. Sì. Sì? Fa le uova. Fa le uova. E allora basta, e allora cosa dici? Sì. Hai sbagliato, io. E quindi, quali tipo di mammiferi non ti piacciono? Oppure preferisci dirci quelli che ti piacciono per non darti il trauma di pensare a quelli che non ti piacciono? Cioè, ma mi piace mangiarli o mi piace salvarli? Non ti piace salvarli o... No, dico quelli che mi piace salvare o quelli che mi piace mangiare. Oddio, mi sono... Scusami, tu però mi hai detto che... Cioè, tu sei vegetariana selettiva, cioè ovvero mangi gli animali che vuoi tu. Non voglio capire se tu sei... E quindi questo ti... Cioè, tu... C'è della carne che mangi? No. No. Quindi non ho capito. Ci sono degli animali che però vuoi uccidere. Li uccido ma poi non li mangi. Ok, quindi... Cioè, io questo mi piace. Questo di te mi piace. Perché si parla di animali, no? Di vegetariani che vogliono salvare gli animali perché gli animali vanno amati. No. Gli animali vanno ucciditi. E non mangiare. Questo. Questo è il paese che voglio. Questo è l'Italia che si deriviamo.